Favorire la coesione nazionale, valorizzare la ricchezza delle varie tradizioni storiche e culturali del Paese nel rispetto dei diritti umani e diritti delle minoranze. Sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro di Papa Francesco con il Presidente della Repubblica del Camerun. Durante il cordiale colloquio svoltosi nel Palazzo Apostolico, riferisce la Sala Stampa Vaticana, è stata confermata la Comune volontà di rafforzare le relazioni tra la Santa Sede e il Camerun, a favore dello sviluppo del Paese e soprattutto in campo educativo e sanitario, settori in cui la Chiesa offre già un importante contributo. Non è mancato uno scambio di vedute su alcuni temi di interesse internazionale, con particolare riferimento alle attuali sfide che interessano la Regione. Grazie a tutti.